Buonasera, gentili. Buonasera, gentili telespettatori e benvenuti al TG. Oltre al deposito fisso di riciclaggio agli elencicci, gli abitanti della città di Pisino possiedono anche il cosiddetto deposito mobile di riciclaggio che la società di servizi pubblici di Pisino, Usluga, sposta secondo un programma prestabilito dai comitati locali. Questa settimana il deposito di riciclaggio si trovava a Vermo, più precisamente a Sottovermo. Si tratta di un contenitore chiamato centro di riciclaggio mobile in cui gli utenti possono portare rifiuti che altrimenti non potrebbero smaltire altrove. Ad esempio, cosa non finisse nei rifiuti misti, cosa non va nei contenitori della plastica, nei contenitori metallici, nella carta, nel cartone e simili, affinché tutto possa essere portato nel centro di riciclaggio mobile. Oltre a molti altri numeri chiave, come il vetro piano, i pneumatici delle automobili o altro come batterie e rifiuti simili, ma soprattutto quei rifiuti pericolosi generati in ambito domestico, come ad esempio i resti di erbicidi, pesticidi, alcune vernici e colori, ovvero tutto ciò che non finisse effettivamente nei rifiuti urbani misti. Quindi l'intenzione del deposito mobile di riciclaggio è di andare in giro per il paese, quindi per questo l'abbiamo reso mobile, diciamo per Pisino, lo abbiamo messo nei luoghi di 12 comitati locali, perché tutti gli utenti possano usufruire dei suoi servizi, cioè avvicinare il servizio di smaltimento di questa tipologia dei rifiuti. Villa Terviso. Voglio essere proclamato meglio sportivo della Croazia, tra l'altro la terza volta per me, dove in Croazia ci sono tantissimi sportivi fortissimi, in vari sport, essere una parte di questi sportivi è davvero per me una cosa fantastica. Nella sua ventenale carriera sportiva Giovanni ha vinto tutto quello che si poteva vincere, coppe mondiali ed europee, giochi del Mediterraneo, olimpiadi. Il risultato più notevole lo ha ottenuto ai giochi olimpici di Londra nel 2012, quando ha vinto la medaglia d'oro individuale e ha eguagliato il record olimpico con 146 bersagli colpiti. Ha anche il vincitore del premio statale per lo sport Fragno Bucer, nonché detentore del record statale pluripremiato sportivo dell'anno della regione istriana. E dietro questo grande campione sta un altro grande sportivo, suo padre Walter. Ci si sente dopo tanto lavoro e sacrifici, sudore, quando si arriva il risultato è una grande soddisfazione per Giovanni, per me, per tutta la famiglia, per la mamma, la nonna, tutti quanti siamo felici. Il duo sportivo adesso si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi. Giovanni gareggerà nella disciplina trap in programma il 29 e il 30 luglio. Gli lamenti vanno bene, ho avuto due piccole infortuni all'inizio dell'anno, ma adesso sta andando tutto bene, continuo gli lamenti e spero di essere una top della forma a fine luglio per le Olimpiadi. Abbiamo un pensiero sempre di arrivare in finale, quella è la prima cosa, poi in finale può succedere di tutto. L'aspettativa è niente, mi preparerò come per ogni gara, darò il tutto al massimo di me stesso e l'obiettivo è entrare nella finale e dopo tutto è possibile. Andiamo passo per passo, prima prepararsi bene bisogna, poi arrivare in finale e poi ci vuole anche un po' di pizzico di fortuna sportiva. In occasione della giornata di consapevolezza sull'autismo, durante tutto il mese di aprile si richiama l'attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Anche l'associazione Ti Porgo la Mia Mano di Umago si è inclusa in questo progetto avviando un'azione umanitaria per le terapie dei bambini. L'autismo è un disturbo complesso dello sviluppo cerebrale caratterizzato da difficoltà nell'interazione sociale e nella comunicazione e ha creato un impatto sufficiente nella comunità sanitaria globale per incoraggiare un giorno e un mese tutto suo, celebrato in tutto il mondo da famiglie, scuole e aziende. Ti Porgo la Mia Mano è un'associazione di Umago creata per rendere le vite delle famiglie con bambini disabili e con disturbi evolutivi più consapevoli e indipendenti. Persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. Il suo obiettivo è di migliorare le condizioni dei bambini con disturbi evolutivi nonché delle loro famiglie mediante la riabilitazione, la consulenza professionale, le attività sportive e forme di assistenza extra istituzionali. I genitori vengono coinvolti direttamente nelle attività che svolgono insieme ai propri figli. Ma tutte le cure terapeutiche e riabilitative hanno un costo, sicuramente non di poco conto e le risorse ormai vengono a mancare. Per questo motivo è stata allestita nell'attrio del teatro Antonio Kosovic di Umago una mostra di dipinti, alcuni disegnati dai bambini stessi. I dipinti sono in vendita e tutto il ricavato aiuterà a sostenere l'associazione che svolge un ruolo fondamentale nella socializzazione dei bambini affetti da questo disturbo. Tutti i dipinti si possono vedere anche virtualmente sulla pagina Facebook dell'associazione dove ogni dipinto ha il suo prezzo di partenza. L'azione umanitaria si conclude il 4 maggio. Inoltre si possono acquistare le loro magliette con il logo ideato da un bambino affetto ad autismo ad un prezzo di 10 euro. Invito tutti a venire a vedere la nostra mostra e ad aiutare la nostra associazione Prusam Tiruku, ti porgo la mia mano, dei bambini con le disabilità. TG Flash Vodovod Pola informa i cittadini che domani dalle ore 8 fino a mezzogiorno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nella città di Pola dovuta ai lavori sulla rete idrica in via Modrushan dal numero civico 31 al numero 35 e in via Lovegizza dal numero civico 1 all'11 e dal 45 al 77. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti. Per ulteriori informazioni si pregano gli utenti di contattare la municipalizzata. La comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano invita tutti gli interessati allo spettacolo in occasione della festa della mamma, sabato 4 maggio alle 19 in comunità. Si esibiranno il gruppo corale Coral di Lucinis di Gorizia, gruppo di filodrammatica di Mommiano, il coro, il gruppo ritmico dei bambini e il gruppo del dialetto della comunità di Galesano. Nel Teatro Popolare Istriano di Pola è stata messa in scena l'opera di Dona ed Enea di Henry Purcell con la partecipazione di solisti e del coro accademico misto dell'Accademia Musicale di Pola accompagnati da un'orchestra da camera diretta da Domenico Brischi. L'opera della durata di circa un'ora è stata diretta da Hervo e Korbar il quale, a giudicare dalle reazioni, ha svolto ottimamente il suo compito. Per quanto riguarda la rappresentazione stessa che stiamo facendo qui è importante considerare che contemporaneamente un esame è uno spettacolo con persone che salgono sul palco per la prima volta ed altri che si stanno laureando. Abbiamo quindi pianificato tutto in modo da presentarli nel migliore modo possibile e cercare di tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Vogliamo dare loro l'opportunità di sentirsi a proprio agio in qualsiasi ruolo interpretino, dimostrare il loro talento al massimo e di essere il più possibile liberi e autentici sul palco, il che è una grande cosa per tutti loro. L'opera è stata eseguita in due serate, con Mirta Topalušić nel ruolo Didi Dona nella prima e Ena Lešić-Jovanović nella seconda serata. Nel'opera interpreto il ruolo principale di Didi Dona, lei era la prima regina di Cartagine. Durante l'opera continuiamo a riflettere sul tema dell'amore o del non-amore, perché si tratta principalmente del fatto che il principe Enea arriva a Cartagine e lei lo trova molto attraente, ma a causa del voto fatto al suo defunto marito e di altre circostanze esita se stare con lui oppure no. L'autore della coreografia in questa opera è Mattia Ferlin. Ciò che è stato estremamente importante per me durante il processo e che ci sia un senso di unità tra tutti questi giovani studenti e che ognuno di loro, naturalmente secondo la propria volontà e talento, dia il massimo di sé. La produzione di opere fa parte del programma annuale dell'Accademia Musicale di Pola. Ogni anno abbiamo spettacoli in collaborazione con il Teatro Popolare Istriano. Ciò che è specifico è che lo studio del canto solista è un percorso abbastanza impegnativo, con molti corsi complementari che li preparano per una loro futura professione. Quindi, durante l'anno, hanno corsi di studio come ruoli operistici, recitazione operistica e movimento scenico. Attraverso questi corsi si preparano per le esibizioni sul palco. Il direttore dell'orchestra da camera era Jose Hausa e gli applausi ricevuti alla fine hanno evidenziato il fatto che lui, così come tutti coloro che hanno partecipato alla rappresentazione, abbiano svolto magnificamente il loro compito. Ed è tutto dal Tg, grazie per l'attenzione e buona serata, ci vediamo domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.